Attenzione si sente puzza di fregatura da Berlino e da Bruxelles. Quando sentite parlare di MES, attenzioni, occhi e orecchi aperte perché c'è dietro l'ipoteca del futuro dei nostri figli, il lavoro e il risparmio degli italiani. Veniamo ai fatti concreti. Il 23 marzo il vice segretario del Partito Democratico parla apertamente di MES dicendo che l'Italia ha bisogno di un piano di investimenti dall'Europa. Discutiamo da dove prendere questi soldi, se dal MES o con dei bond. Questo il 23 marzo. Sempre il 23 marzo l'Olanda risponde. L'Olanda è impegnata ad assicurare che verrà usato il MES solo con le condizionalità previste dall'attuale trattato. Tradotto, vuoi dei soldi, poi me le restituisci aumentando l'età per andare in pensione, chiudendo ospedali, chiudendo caserme o mettendo la patrimoniale. Veniamo a oggi. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno dice i dettagli degli aiuti del MES, quindi conferma che si sta parlando di questo. Verranno resi noti entro il 5 aprile e nel lungo periodo gli stati dovranno assicurare un percorso sostenibile. Tradotto, Italia, se vuoi dei soldi oggi, me li dovrai restituire con interessi e sacrifici domani. Veniamo alla chiusura del cerchio. Berlino, il governo tedesco, questo poche ore fa, ritiene che il MES possa essere uno strumento utile per elargire sostegno veloce agli stati con le regole in vigore. Quindi con i vincoli e i sacrifici oggi previsti. Tradotto, gli italiani hanno messo 14 miliardi in questo fondo per aiutare gli altri, hanno messo altri 44 miliardi in altri fondi europei per aiutare altri stati e altre banche, in totale 58. Adesso, per averne eventualmente indietro 35 sui 58 dati, dobbiamo infilare l'Italia, il nostro paese e i nostri figli in un tunnel di cui non si conosce l'uscita. No al MES. Chiediamo che il Presidente e il Consiglio venga in Parlamento, visto che questo è il nostro posto di lavoro, a dire a chiare lettere no al MES. Chiediamo altri fondi, fondi della Banca Centrale Europea, ma non i fondi di un trattato che rischierebbe di essere la morte del nostro Paese. Abbiamo visto i vincoli europei che ci hanno portato a chiudere ospedali, scuole e caserme che a bella fine ci hanno fatto fare. No al MES. C'era nel programma della Lega, c'era nel programma dei Cinque Stelle. Speriamo che tutti mantengano coerenza e rispetto alla parola data agli italiani. Aiutateci a far girare questo allarme che non è ingiustificato, ma è fondato sulle parole che avete sentito. No al MES. Chi parla di MES abusivamente o di nascosto è un nemico dell'Italia e degli italiani. Tutti insieme per sconfiggere il virus, sì, ma senza ipotecare il futuro dei nostri figli, la libertà, l'indipendenza e la sovranità del nostro Paese.